Sicuramente le sensazioni sono estremamente positive, il gruppo mi piace, la società mi piace, il posto mi piace, quindi credo che sia la migliore soluzione per poter ricominciare una stagione importante. Noi intanto oggi iniziamo l'attività pratica, quindi c'è la presentazione della società, poi andremo in sala pesi, inizieremo il primo lavoro in sala pesi, da oggi pomeriggio saremo al palazzetto per lavorare con la prima seduta tecnica e così continueremo per tutti i giorni. Faremo qualche pausa la domenica per dare riposo ai ragazzi e anche per visitare questi luoghi che credo che meritano e quindi andremo avanti almeno per tre settimane. Finita la terza settimana inizieremo qualche primo test amichevole che dobbiamo ancora ufficializzare per via dell'accordo con le altre società, però un programma e un piano c'è. Saranno più o meno cinque o sei le amichevoli che abbiamo pensato di fare proprio per verificarci strada facendo e per vedere se il lavoro che stiamo facendo è nella direzione giusta. Sarà importante vedere questa squadra all'opera anche nelle amichevoli perché è una squadra giovane, una squadra che ha tanta voglia di fare, quindi dovremo canalizzare tutto il loro entusiasmo e tutta la loro qualità nel gioco di squadra. Della 2 italiana, un campionato di alto livello, un campionato che esprime sempre valori importanti, tutte le squadre iscritte hanno preparato e organizzato roster importanti perché i giocatori ci sono, sono giocatori esperti, sono giocatori che anche sono scesi di categoria per cui è un campionato difficile come sempre. Non so se il livello sarà più alto, più basso o uguale a quello dell'anno scorso perché ancora le squadre devono iniziare tutti la preparazione, quindi è una cosa che vedremo più in là, però la 2 generalmente esprime un livello molto alto, quindi mi aspetto un campionato duro, difficile, però dalle facce che hanno i miei giocatori credo che saremo pronti anche noi. Credo che sia naturale, la costruzione di un gruppo attraverso le singole persone credo che sia naturale, debba venire in maniera naturale perché ognuno ha il proprio carattere, chi è più introverso, chi è più estroverso, quindi chi ha più esperienza, chi ha meno esperienza, chi è abituato a vivere queste situazioni e chi non è abituato perché ci sono anche giocatori che non hanno mai fatto esperienze di questo genere, quindi credo che la prima fase sicuramente deve svolgersi in maniera naturale. Poi sarà compito nostro dello staff quello di canalizzare questa amalgama che si crea in maniera naturale e farla diventare una squadra che combatte in mezzo al campo.